Benvenuti a Compila, quindi va! Come dire, c'era un cielo che non era blu, ma era nero, carico di pioggia che mi sa che presto arriverà, non sia ancora scaricata, ma tra un po' si sentiranno toni e fulmini partire. Come va? È giovedì, quindi siamo verso la fine della settimana, poi immagino che qualcuno si preparerà a un punticello. Purtroppo non posso fare il ponte, ma quantomeno martedì ci rilassiamo forse un attimino, vediamo un po' come va. Vedo già qualcuno in chat, ci scrivevamo un po' di bordate, ho presente, comunque ho visto il link e da Pozzetto Acqua immagino già che si tratti della ragazza di Campania, quando fa, ehi voi, non mandate giù i cammelli, no, mandiamo sui cammelli, mandate giù un po' d'acqua, basta, 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 basta! Un film mitico che ogni volta penso che lo riguardi in continuazione e non mi stancherò mai di guardare i film di Buzz Spencer, sono un po' troppo nostalgici, mi hanno fatto notare che questo è il periodo più nostalgico in assoluto a livello proprio tipo società, perché tutte le canzoni che si trovano, anche nello stile più moderno tipo trap, riprendono tutti i motivetti agli anni 90, tutti i film sono dei remake, addirittura fanno una serie nuova su Harry Potter, quindi un reboot, dopo che i film sono degli anni 2000, quindi non si aspetta neanche a momenti che diventa vecchio, ma si riparte subito con una nuova versione di quello che già si è visto, è il signore degli anelli, è una serie su guerra stellata, cioè si ripesca, si rivanca nel passato in una maniera eclatante, questo non è di solito un bel segnale, perché vuol dire che c'è un po' il sentimento di se stava meglio o quando si stava peggio, e questo non è proprio, diciamo, non fa ben sperare per il futuro, ma quantomeno, meno male che qui non ci occupiamo di politica, anche su Twitch, anche se su Twitch qualche canale c'è, qualcuno lo segue, che parla più di, in realtà fa interviste però, sì, cioè, boh, o non ci sono più idee, o quelli che ce le hanno non riescono a trovare lo spazio per, non lo so, non lo so, per farle venire fuori, non lo so come mai, pochi idee ma confuse, e quindi, cioè, per dire, a volte, vabbè, può anche far piacere, però spesso sono prodotti, prendiamo Cobra Kai, che è un esperimento, diciamo, riuscito, però anche quello, cioè, andiamo a rimangare addirittura Karate Kid, cioè, roba, c'è sempre un ripescare nel turbido, poi, vabbè, qualcuno propone qualcosa magari di che pesca, ma è anche nuova, come in quel caso, altre volte invece è solo un rimestare, un, non lo so, un po' un periodo, un po' così, infatti noi facciamo il live, così, vediamo, no, poi se avete visto qualche altro live su questo canale, c'è un, i VOD, ho fatto una, come dire, mi sono lasciato andare un po' al gaming, giusto per prova, e quindi ho detto, ma sì dai, facciamoci anche qualche gaming in live, chiaramente senza preannuncio, senza non sto a scrivere in chat questa cosa, anche perché ovviamente non trattandosi, diciamo, la community un po' che segue un po' questo canale, a parte quelli che, voglio dire, sono amici, quindi fanno per supporto, gli altri in generale sono, come dire, interessati al tema principale, e quello rimarrà, eh, non è che mi metta a fare gaming, però siccome ogni tanto così, con un po' un team ci divertiamo a fare questo gioco, ci ho preso un po' gusto, ho smesso di caggarmi addosso quando ci gioco e quindi quantomeno riesco a fare qualcosa, quindi se vedete qualche live strana, tra l'altro con il logo modificato, perché adesso magari ho qui la, ho già Delphi in sottofondo, che è pronto all'uso, però ho appunto il, come dire, la mia cam normale, e poi c'è la schermata da gaming dove io sono altrove, c'è compila quindi va, il va è barrato, c'è scritto compila quindi gioca, e tra l'altro nel mio, nel mio loghino ho il joystick davanti, e quindi, vabbè, ogni tanto se mi capiterà, se riesco a rilassarmi un attimino, magari, eh, fanno in live, siccome ci sono degli, degli estimatori, comunque tra sviluppatori c'è anche chi gioca, però, vabbè, quello, chiaramente il canale sarà principalmente, eh, come dire, anche su Telegram non faccio gli annunci del live di gaming, a meno che qualcuno sia interessato, però, non penso, quindi, però sì, ogni tanto ci sta meno, così, si gioca con gente in live, qualcuno che fa le battute, infatti, siccome nel gioco, tra l'altro, qualche giorno fa, giocando, ha fatto un po' degli errori marchiani, mi era stato suggerito di, di cambiare compila e incompirla, e questo è piaciuto molto a quelli che stavano giocando, come, no, è una piattaforma Twitch che si fa usare, soprattutto per questo, quindi non, in questi casi, come dire, ogni tanto, mi farò una qualche partitina, giusto per, tanto il tempo è poco, quindi, poi, ne sarà ancora meno, perché adesso ci sono un po' di cose, ok, guarda che torno nella, nella, schermata normale, fai bene, ma sì, tanto poi, il tempo è poco, ogni tanto ci si diverte, con i ragazzi c'è più che altro per farsi quattro risate, quindi, un po', seguo alcune, alcune live, le seguo, perché, comunque, i sviluppatori sono ancora pochini relativamente, anche se stanno crescendo, perché, ultimamente ho visto un po' di, ho seguito un po' di canali, che parlano anche un po' di lavoro, di chi cerca lavoro, in questo ambito, e quindi, dove la RAL è un po' l'argomento numero uno, che adesso è tornato in auge, perché c'è questa proposta di rendere obbligatorio, come dire, la RAL che si offre, poi, si fa presto, perché uno scriverà dai 16.000 ai 100.000, e così, tu potrai, potrai avere un range, e ovviamente sarai su quello più basso, o qualcosa del genere, da un lato sicuramente positivo, perché a volte non, cioè, è un fattore che va senza atto discusso, quando ti prendo una persona, gli dovrai dire cosa gli dai, e cioè, ovviamente, a seconda della figura, bisogna essere possibilmente onesti, quindi, chiaramente ci va onestare ad entrambi i fronti, perché vedo che, è un periodo dove un po' anche da, da questo punto di vista, c'è molta ricerca, però, chiaramente c'è anche un'offerta relativamente bassa, secondo me, è un po', lo sviluppatore viene visto un po' come manovalanza, è quello che è un po', questa impressione, a meno leggendo in giro le esperienze di chi, cerca lavoro, e quindi, chiaramente, non è, non c'è un percorso di crescita, è un po', è un po' difficile, e poi, vabbè, uno che fa del coding, perché gli piace, la sua crescita, è il tenersi informato, io non, se dovessi, come dire, cambiare un ruolo, che vado a fare, cioè, a me piace scrivere il codice, quindi, più che scrivere il codice, non c'è qualcosa che, quando sei sviluppatore, è il tuo step superiore, di scrivere il codice, cioè, magari puoi essere una persona che forma, altri, o così, quello sì, però, se vuoi scrivere il codice, scrivi il codice, quindi, puoi essere un super scrittore di codice, non so, però non è una figura che ha vari sbocchi, a meno che ovviamente, non vai a fare qualcos'altro, la tua esperienza, non diventa un, un tesoro da usare per un ruolo diverso, però se vuoi scrivere il codice, quello è, tutto al più, puoi diventare più bravo, puoi imparare più tecniche, puoi essere più veloce, più efficace, quello sì, però, grosso modo l'attività è questa, quindi, questa è la settimana dei colmi, perché sono andato dal mio dietista, che mi ha, mi ha pesato, e mi ha detto che sto calando troppo in fretta, e quindi, in poche parole, mi ha detto che devo mangiare di più, questo è, non dico altro, e quindi, no, però stiamo andando bene, quindi, però stiamo andando troppo bene, quindi devo rallentare, perché l'ho presa un po' troppo sul serio, non lo so, e quindi, mai mi sarei immaginato, che qualcuno mi dicesse che devo mangiare, quindi, mentre sto cercando di, di togliere dei chili, ma, vabbè, questa dovevo condividerla, perché è la cosa che mi ha un po' scioccato, questa settimana, e quindi, comunque, vabbè, argomento della serata, quindi, tornando, le live serie, metto discovery sempre, tutte le volte che io fingo di, imparare un argomento, no, in questo caso è così, veramente, perché, ho pensato, un po', ma, che argomento portiamo, eccetera, ho pensato che questo lato di, FireMonkey, a meno, personalmente, io, non, non l'ho approfondito più di tanto, o meglio, ho presente, eventuali, sul web, ad esempio, molto di più, in varie condizioni, chiaramente, parlando di uso del 3D, non nel senso che faccio Doom, però, capita molto spesso, sul web, di fare, applicazioni web, tipo con dei Carousel, di ricorrere, comunque, a un, alle trasformazioni 3D, di CSS, per, per fare sì, che magari, tu riesca a vedere più cose, nello stesso spazio, cioè, è un po' come lavorare, con il bidimensionale, però, su uno schermo, dove, lo schermo non è piatto, ma ha dello spazio dietro, e quindi, non so, tu hai delle foto, che ruotano, la foto davanti è più grande, la vedi bene, però, semi trasparente, vedi un anello, quella dietro la vedi girata, ma la vedi, vedi di cosa si tratta, e quindi, volendo, cliccando, puoi andarci direttamente, oppure, quando si usa, non so, tipo usate Android, vedete, non so, l'elenco dei processi, delle ultime app, adesso è un po' diverso, mi sembra come le butta fuori, ma una volta metteva, le app, una sotto l'altra, però, come un mazzo di carte, dove ce ne sono alcune, che si intravedono, cioè, si, nello stesso spazio bidimensionale, è come se ci fosse spazio in più, perché c'è qualcosa che sta davanti, e qualcosa che sta dietro, e quindi, e quello viene, cioè, viene comodo, perché si riescono a vedere più cose, e quindi, è un 3D anche per quello, cioè, c'è anche una profondità, oltre a un, a un qualcosa di piatto, e quindi, riesco a vedere, non so, giocando un solitario, riesco a avere un'idea di, di qualcosa che occupa nello spazio, è più vicino a me, o più lontano da me, ecco, quello è il, non è la questione di fare un, uno shooting, o una cosa in più, una persona che gira, e ricostruire un ambiente 3D, anche se, so che in Fairmont, ci sono dei componenti, interessanti, e io, quello che ho provato, a cercare in giro, c'è anche poca documentazione, infatti, io non ho dimestichezza, con, quei concetti, che sento spesso, oh, ciao Fubit, ben arrivato, ah giusto, no, beh, non è ancora passato, qualcuno che ha un canale, quindi, perché, quando vedo Fubit, mi viene in mente, shot out subito, e con cui ci siamo, la settimana scorsa, ci siamo scambiati il ruolo, perché, io ho fatto un paio di live, di gaming, tanto per, Fubit sta programmando, con un Pascal, su Commodore 64, quindi, pensate, fin dove arriva, che ha però un po' di problemi, perché è un po' limitato, nella gestione degli interi, con dei negativi, e quindi, sai com'è, è sempre una macchina, è un emulato, però, una macchina, 8 bit, con le sue limitazioni, quindi, però mai avrei pensato, anzi, ce ne sono molte più incarnazioni, che ci fossero, così tanti, Pascal, anche per, per Commodore 64, e, quindi, è bello, anche, usare la piattaforma, per, per farci sopra del coding, se ce l'avesse ancora, più che altro, la Miga, perché gli emulatori, a volte, non mi soddisfano, hanno, un timing diverso, hanno un sapore diverso, invece, il mio, il mio comodo, l'amico, ha iniziato a programmare, e a trovare informazioni, proprio quando l'ho, l'ho ceduto, addirittura, qui c'era, c'è un canale, anche dove, non so, se magari, è live, che ci faceva, programmazioni in assembly, addirittura, la sua amica, e quindi, ah, peccato, chissà che fine ha fatto, chissà dove è andata, mentre le nuove cose, che si trovano in giro, che hanno lo stesso aspetto, più piccolo, con un emulatore dentro, par strano, che non si riesca, a costruire, cioè, se uno deve spendere soldi, è vero che, mettere in piedi, una linea, per fare un computer vecchio, non fosse, non ha tutto quel senso, però, se vuoi vendere, un computer vecchio, fallo come l'originale, cioè, con 64, ho visto, c'era delle schede stampate, che erano, ormai ad oggi, non so, se, se produrlo, costa più, di produrre un arduino, probabilmente, sì, costarà di più, senz'altro, però, boh, non capisco la difficoltà, di usare lo stesso hardware, quando era molto più semplice, rispetto dell'hardware, applicato per non emulare, ma anche se è vero, che poi l'emulatore, ti apre molte più strade, perché, ci puoi caricare un po', quello che vuoi, puoi caricarci, dei file, e scarichi da internet, cioè, se uno facesse, se avessi un 64 originale, per dire, o metti un floppy drive, oppure ti do a usare la cassetta, quindi, bei tempi, bei tempi, io avevo un Commodore 16, prima del Commodore Amiga, il Commodore 16, aveva un lettore cassette, che era, ci sono dei kit, per costruirsi, ah, immagino, però, io, sono assolutamente, negato in, in elettronica, e quindi, abbiamo iniziato, turbo load, mitico, ma, voi lo conoscete, ignoranza pazzesca, cioè, non avrei mai pensato, che esistesse un Pascal, per Commodore 64, invece, ce n'è, più, pure più di uno, ce n'è un sacco, quindi, mi ricordo il Commodore 16, che, quando riavvoggevo la cassetta, a parte che c'era sempre, quel, quel fantasma, quel problema, terribile dell'Azimuth, dove, allora facciamo, che prendo il Commodore, un Commodore, immagino, un Commodore 16, e ciao, io, il Commodore 16, me l'aveva dato, mio cugino, i miei cugini, che non l'utilizzavano, è il primo gioco, che ho giocato, non mi ricordo il nome, ma se è un elicottero, che spazza su dei palazzi, quando schiacciavi la barra, lasciavi andare giù un missile, e lo, e lo, benvenuto, Dr. Ron, anche Dr. Ron, gli stream, ma è vero, mi stavo, distraendo, ho visto l'altro giorno, passando, qualcosa di sfuggita, però, purtroppo, ero appunto di sfuggita, quindi, vi faccio uno shout out, così, chi segue qui, se vuole guardare cose di programmazione, svariate, può, può farsi una cultura, di tutti i tipi, perché qui, veramente, ci sono, beh, cioè, io, ho a che fare con, beh, a parte quelli che usano il mio tool, gente che usa Visual Studio, Visual Studio Code, invece, in giro, proprio, Pascal su Comodo 64, Amiga, Assembly, cioè, proprio le cose più, più strane, disparate, chezzeggiavo su Java, l'altro giorno, beh, Java è già, comunque, già moderno, e quindi, può darsi, avevo visto, forse però, mi confondo, mi confondo, con un'altra live, perché, se passa, se non riesco a rimanere live, di solito, di solito, faccio un po' di carellata, passo in giro, vado a dare un saluto, un po' a tutti, più che altro così, per vedere, che fanno, perché poi sono curioso anch'io, mi ricordo sto gioco, e quindi, sganciavi la bomba, e praticamente, i palazzi, tirava giù, se cerchi Commander XA, ci trovi il retro PC, di, 8 bit guy, ma se mi metto a guardare, queste cose lì, poi dopo finisce, che non vado a letto, perché, so già che poi, mi chattacco, cioè, dopo mi intrippo, è un disastro, quindi, e sul buon commercito, c'erano dei giochi interessanti, però anche lì, c'era, il brutto è che, ovviamente, veniva col suo manuale, c'era lo spiro, like, quel, non so come si chiama, mi viene in mente quello, perché è prodotto anni 80, dove c'avevi la rotellina, con l'ingranaggio, che se facevi le spirali, con l'ingranaggio, ti faceva quei disegni, quelle ciambelle, e lì c'era un listato, per farlo, quindi mi sono messo lì, a copiare il listato, che poi scopro, ho scoperto, anni dopo, ma neanche tanto, che poi questa è la storia, di qualsiasi programmatore, cioè, Comodo 16, Vic 20, qualcuno aveva un 64, tutti hanno preso il manuale, quando hanno visto che, praticamente, pur non capendo bene, quello che scrivevano, lanciavi, e quindi, gli puoi far fare, quello che vuoi, uno dice, che bella cosa, questo sarà il mio futuro, in realtà, poi diventa la rovina, quindi, da grande farò, farò gestionali, farò formazione, vabbè, quindi, lo spirograf, giusto, giusto, quelle biro colorate, e lì c'è un listato simile, che faceva una cosa del genere, però, lo vedi, chi lo disegna proprio a video, quando lo lanci, ci metto un attimo a farlo, e quando è finito, è finita la magia, però dici, questa cosa, avevo provato a variare, cambiavi anche solo una virgo, in un parametro, veniva, veniva, da roba che non si capiva cos'era, quindi, dopo, non, ce n'ho riuscivo a dare un significato, al, al, al codice che ricopiavo, però, è interessante, questa cosa, mi ero messo a copiare, a fare dei finti sistemi operativi, cioè, guardavo i pc, quando si avviamano, che scrivevano robe strane, che non capivo, poi, non c'avevo, 14, 13 anni, 12 anni, non capivo un accidente, quindi, e mi mettevo a fare, gli facevo scrivere le stesse cose, anche se poi, con un Commodore 6, non faceva niente, c'era neanche un, un, eh, sto facendo il boot, non ce n'è, c'era neanche il floppy, e quindi, però, mi ricordo benissimo, il registratore, che quando si metteva in rewind, eh, o rewind, si dice, non mi sembra rewind, forse, eh, arrivavi in fondo, faceva il verso della foca, perché, quando tu lo facevi, riavvolgere, il nastro andava, quando arrivavi in fondo, sentiva, eh, eh, Frogger, il ranocchio, eh, Frogger, viene proprio dall'arcade, e quindi, saltando sui tronchi, quello, ci giocavo, con, un amico, con cui, appunto, avevamo iniziato a giocare prima, su, non so se la console, oppure sempre un 64, poi sull'Amiga 500, quindi, ci siamo mossi assieme, e quindi, condividevamo, condividevamo gli stessi giochi, giocavamo alla Frogger, giocavamo a Popeye, quindi, braccio di ferro, che, la Fenix, che era la Fenice, che mi ricordo, eh, questi giochini, il 64, c'era quello del Karate, che facevi, giocavi in doppio, e ci dava un sacco di pugni in testa, poi, poi io perdevo sempre, in quel livello, dove ti arriva il Toro, gli devi dare il, il pugno in testa, non so cosa devi fare, a me mi asfaltava sempre, quindi, c'era un sacco di, di giochi belli, che se li rivedo, mi tornano in mente, come il 64, l'aveva mio cugino, invece avevo il 16, che era molto più scarso, chiaramente, anche se qualche gioco, carino, lì c'era, mi ricordo, che era uscito addirittura, Paperboy, per Commodore 16, che brutto come quello, il joystick, avete dato che giocava, delle Olimpiadi, sinistra, destra, sinistra, destra, è una marea, invece c'era, io avevo sempre i joystick, con le switch, ogni tanto, sentivi, sentivi che partiva il, proprio un rumore, metallico sordo, e quella era la molla, che aveva perso, non switchava più, perché quelli morbidi, erano ancora più, deboli, quelli lì, invece erano precisi, però, dopo un po', quelli ne ho rotti parecchi, giocando a Rainbow Island, con mia madre, mi ricordo, sull'amiga, ci facevamo delle nottate, quindi, eravamo arrivati quasi, in fondo all'ultima isola, dopo diventa un po' difficile, quindi, lì ci si era fatta, una bella esperienza, non c'era ancora internet, non c'era modo di sapere, un po' i trucchetti, per avere i diamanti, dello stesso colore, però, quello ci ha veramente fulminato, a parte che avevamo dato un nome, ad ogni nemico, che c'è in qualsiasi quadro, di quel gioco, perché, c'è un livello dell'oro, dove ci sono i, c'è un, ci sono i pipistrellini, e c'è il pipistrello più grosso, però, che c'è il rossetto, quindi si vede che, è rappresentato come una donna, e quindi, quella la chiamavamo Busmona, e i pipistellini più piccoli, erano i busmini, giustamente, perché, Busmona, perché dava l'idea di qualcosa di tozzo, di grosso, e di, vabbè, lì ci si era divertiti, parecchio, poi dopo, sono, come dire, è arrivato il lavoro, giustamente, e quindi, vabbè, abbiamo fatto già, troppe chiacchiere, ci sta comunque, rimangare queste cose nostalgiche, però bisogna, guardare avanti, quindi, giocare a giochi scrausi, come, Fasmofobia, ad esempio, dove è pieno di difetti, c'è roba che rimane a mezz'aria, gente che si compenetra, nel senso buono, nel, però alla fine, in gruppo è divertente, perché, entri, entri nelle case al buio, e dici, sono dell'Enel, signora, e quindi, poi dopo, vieni strozzato, in maniera, in malo modo, se volete guardare, una delle ultime live, di come muoio, soprattutto nella scuola, che è enorme, e che non riesco a trovare, questo cavolo di fantasma, allora, parlando appunto, di giochini, usiamo strumenti di alto livello, e proviamo a vedere, questo, 3D, in Delphi, FireMonkey, che io, è proprio l'ambito, in cui forse, ho sperimentato, il meno possibile, perché, su applicazioni normali, cioè business tradizionali, ho fatto qualcosa, anche con FireMonkey, anche con, abbastanza elaborato, il 3D, lo considero poco, e quindi, però, effettivamente, in ambito mobile, si usa, per l'utilizzo, che dicevo prima, cioè, avere anche un minimo, di profondità, e per altri motivi, quindi, usate per il, adesso bevo, mi metto anche il, il suono del mitico, che stava facendo, lei, io, mi permettevo di bere, un goccettino di acqua minerale, bravo, bravo, continui, continui, vale, porti subito, 25 bottiglie d'acqua minerale, di quella marca, era la terribile acqua, Berthier, la più gasata del mondo, dove? dove la vado, questo pezzo, forse potevo tagliarlo, però ci sta, dopo l'acqua Berthier, c'era proprio, il completo, pure il rutto, allora, burp, esatto, è del casino, il portacenere, quindi, 3D, allora, mi metto in un'altra, inquadratura, così, la mano, è arrivato in ritardo, e così, nel film, spazza via una stanza, praticamente, quando hai bevuto, 8 bottiglie, dell'acqua Berthier, quindi, facciamo applicazioni, multi device, quindi, nel template, nel template, che abbiamo a disposizione, abbiamo sempre creato, delle app, 3D, 2D, con leader, del footer, con dei template, però c'è anche, la 3D application, 3D application, quindi, diamo l'ok, che fa un'applicazione, che sembra, simile, a quelle, solite, potremmo dire, ma, in realtà, nasconde, un, un trick, cioè, vabbè, sembra la classica, form, pronta da progettare, bidimensionale, però, se noi andiamo a vedere, qui sotto, il dietro le quinte, c'è qualcosa, che suggerisce, che non sia proprio così, perché c'è un bel, form 3D, e quindi, praticamente, la classe base, per questa finestra, che è la prima, che viene creata, è una, form, tridimensionale, che è, fondamentalmente, immagino, immagino, erediti da form 3D, aggiungendo delle cose, o comunque, custom form 3D, common custom, no, c'è la form common, c'è la form 2D, o la form normale, diciamo, e il form 3D, ok, mi salvo, giusto questo file, mi farò un, 3D test, che ne so, 3D test, più di test, qua, eh, 3D, o, o primer, come si suol dire, eh, salvo la form, main, eh, perché mi dici ciò, ah, perché c'è il 3d avanti, giusto, perché diventa anche il nome della unit, quindi nel file, eh, 3D, primer, eh, no, 3D, forms, main, ok, ok, adesso ho scritto 3D, quindi, quindi questa è la nostra, name, main form, quel, eh, sì, salvami anche il progetto, così, 3D, la fantasia veramente, da, 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 quindi, che capacità ha questa forma, dovrebbe consentirci di mettere dei componenti, che hanno anche un, tanto ci sono delle proprietà in più, tipo la camera, eh, ci sono in giro, eh, delle posizioni, dei position, in questo caso no, sui componenti, che hanno anche uno z, cioè ci sono delle cose in più, il 3D si può usare anche in un'applicazione pidimensionale, mettendo il, il layer, qui c'è un layer, se non ricordo male, il layer 3D, che ricava praticamente un, in uno spazio pidimensionale, una, una viewport, un, un, un riquadro dove si possono poi mettere le metri dimensionali, mentre qui è tutta la finestra ad avere questa caratteristica, allora io mi baso su informazioni che trovo in un, in un libricino del buon Pavel Glovaci, buonanima perché purtroppo, tra l'altro è uno sviluppatore, è un barcadero che tra l'altro ci ha lasciato qualche anno fa, giovane pure, quindi mi spiace molto perché ho conosciuto, di vista in una conferenza IT Defcon, era molto sul pezzo diciamo, sul fornire appunto spesso esempi a sviluppatori, quindi a fare molta divulgazione, però troppo le volte succede, ha scritto un libro, oddio, lo stanno avuto improvviso, si chiama Expert Delphi, che ha già qualche anno però dentro ci sono delle cose diciamo abbastanza interessanti, è un libro che non è interessante perché è un approccio molto pratico, però io preferisco un po' quelli un po' più accademici, cioè che ti spiegano un po' di più, più che dire metti giù questo componente, fai questo, fai quello, e tu bene o male capisci come funziona, preferisco quelli che mi danno invece le informazioni molto di base, molto dettagliate, e poi sono io che faccio le prove, però vabbè quello, e c'è una sezione dedicata al 3D, anche se ne possiamo trovare anche su altri volumi, senza altro, mi viene da pensare ad esempio sicuramente a quello di libro di Andrea Magni, su Fermocchi, ha sicuramente una parte 3D perché mi sembra di ricordarlo, non so se ce l'ha, e dovrei saperlo, visto che ho fatto la revisione tecnica, il libro di David Cornelius, Fearless Cross Platform, che invece è più recente, non sono sicuro, non mi ricordo se ce l'ha, però vedendo un indice dovrei scoprirlo, adesso ci butto un occhio, perché magari si può ricavare qualche informazione, qualche informazione, I would like to thank, ah c'era anche un ringraziamento, oltre al mio trafiletto, project management, cross platform, core base, VCL, Firemonkey, live bindings, gli stili, exploring the world of 3D, quindi c'è anche qui qualcosa, che si può esaminare, se si vuole approfondire un po' di più l'argomento, perché io spesso mi trovo un po' a digiuno, appunto, leggo sempre Mesh, Texture, Camera, tutti questi nomi, però non ho mai sperimentato come si usano, e che ruolo hanno, quindi volevo proprio fare questa carrellata, seguendo un testo, allora partiamo da qui, in rendering, ok, quindi con Firemonkey, siccome noi abbiamo una libreria, che è una strazione sulla schede grafica, e relative librerie come OpenGL, da RTX e varie e parenti, abbiamo anche questa possibilità di fare applicazioni 3D, quindi basate poi su DirectX OpenGL, e che girano quindi sia su mobile, sia su desktop, quindi noi ovviamente partiamo dal desktop, e quindi oltre al rendering 2D, abbiamo anche la parte di Context 3D. Come funziona? qui c'è un po' una procedura, adesso cerco di leggere un po' velocemente, quindi abbiamo già visto che la form è un form 3D, quindi che andando a ispezionare poi il codice, vediamo che derivava da custom form 3D, che poi implementa una viewport 3D interface, quindi è dotata di metodi che ci consentono nel rendering di fare delle operazioni, quindi qui c'è un esempio di rendering molto molto semplice, c'è un context helper, che ci permette di fare addirittura un cubo, qualcosa del genere, ok, c'è un esempio di rendering molto molto base, cioè sull'evento onRender, ok, abbiamo questo context 3D, che è un po' come quello che abbiamo, tipo in HTML5, quando dobbiamo disegnare, che ci permette di tracciare qualcosa sul form, generalmente quello che vale per il 2D è fare una chiamata begin scene, e ricordarsi poi alla fine di rilasciare con end scene, altrimenti praticamente la scrittura è il disegno bloccato, e tramite dei metodi di context possiamo andare a disegnare, perché abbiamo dei draw fill, fill cube, fill cube è un helper in teoria, cioè non è proprio la funzionalità del context 3D, ma c'è un helper che gli inietta questo metodo, probabilmente perché oltre alle primitivi di base, con le forme di base, l'hanno implementato in modo da avere dei segni a posto, comunque disegnare, come dire, avere già implementato il disegno di alcune forme già note, quindi una sovrastruttura che ci permette di... e quindi potremmo andarlo a chiamare questo fill cube, che vuole un po' di parametri, il point 3D, quindi normalmente noi abbiamo il t-point, qui c'è il t-point 3D, perché c'è una x, una y, ma c'è anche una z, che è la profondità, quindi fin qui ci arrivo pure io, il problema è che io arrivo poi sempre fin qui, e poi non vado mai avanti, nel senso che... no, diciamo, alcuni concetti mi sono chiari, a volte non mi è chiaro come ottenere magari certi effetti, scrivendo appunto il codice corrispondente, cioè non ho mai fatto cosine complesse con il 3D, quindi usando quell'helper potremmo tracciare un cubo, qui c'è un pezzettino di codice draw cube, magari fill potrebbe essere più... ma facciamo un draw cube, via, faccio contento che uso quello che mi suggerisci, quindi qui ci va un point 3D, c'è una procedura point 3D che ci permette di crearlo, però probabilmente dovremmo andarlo a importare, 0, 0, infatti non la trova, non la trova perché, adesso la provo a fargliela cercare, system matvectors, dici, tutto qui, e lui, ma, diciamo che sia lui, si immagina come struttura dati, non sia di fare mochi, anche perché magari, un punto tridimensionale potremmo trovarlo anche nello spazio, poi l'altro parametro cos'è? la size, quindi anche qui, 10, 10, 10, non è che sia grandissimo, ok, 1, l'opacità, così, 1.0, così lo si vede bene, e il colore, T, alfa, color, rec, lo metto blu, blu, violet, qualcosa del genere, quindi opacità e colore, point D, point 3D, quindi, se lo lancio, potrebbe essere che non si vede niente, perché, lui, per fare il rendering, è là in alto, ma è un piccolo, guarda che lo faccio un po' più grosso, dai, e poi lo sposto magari anche un po' più avanti, ok, la Z lo lascio a zero, così è proprio spiattellato, teoricamente sullo schermo, eccolo lì, non che mi sia spostato tantissimo, però, diciamo a sufficienza per, e così, così lo si vede forse un po' meglio, troppo largo, ah, perché è uscito fuori, ok, dovrei, magari fare così, perché altrimenti diventa più, più largo del form, e quindi non si vede, comunque, eh, lo disegna, diciamo che, come rotazione, lo vedo, ma lo vedo molto, quindi se riduco questa Z, dovrebbe essere più grande, forse, perché si avvicina, ci vorrebbe qualcosa di interattivo, però vabbè, questo è proprio il, è proprio una base, per vedere qualcosa, poi in realtà, andrebbe ridisegnato, con un timer, che vada a invalidare, la finestra, e, ci sarebbe, come dire, StrokeCube, SintFollowingCode, ah, ok, oltre a questo, altrimenti, per fare meno fatica, abbiamo anche, un, StrokeCube, abbiamo un componente, che fondamentalmente, fa la stessa cosa, ovvero, abbiamo un set di componenti, che rappresentano le primitive, quindi, di fatto, vanno a chiamare quella funzione, ma prendono i parametri, dal, dalla progettazione, quindi, qui abbiamo una forma bianca, se gli vado a cambiare, il colore, lo metto, rosato, automato, questo è il color, però, il color della, ah, beh, StrokeCube, quindi, sì, il colore della penna, perché, Stroke, come ho fatto, a fargli capire, Point3D, mi continuo a dare, Undecline Identifier, devi aggiungere, devi aggiungere, devi aggiungere, la unit, system math vectors, che tra l'altro, me l'ha ridichiarata, ah beh, perché ho messo il componente, StrokeCube, quindi, lui mi dice, che se guardiamo, questo StrokeCube, troviamo fondamentalmente, quello che serve, per impostare le proprietà, ma nel render, cioè quando lui si disegna, va fondamentalmente, a fare il DrawCube, usando le dimensioni, e la profondità del componente, l'opacità che abbiamo impostato, e il colore, quindi, praticamente, questo oggetto, non è altro, che la primitiva, che viene, sì, oppure, se non trovi qualcosa, fai Ctrl Shift A, o Find Unit, e lui ti cerca, quando cerchi Context, oppure, Context D, Ctrl Shift A, ti richiama la finestra, dove ti dà, si vede, è un, questa è una parte, un'implementazione, che spero, la sostituiscono, quanto prima, perché, è rimasta ancora, non è perfetta, e usa ancora, Together, che è una tecnologia, come il refactoring, poi, io spero, che li ci mettono a mano, prima o poi, nella, nella versione, nuova, quindi, quella che non sarà, la, la versione, di update, ma la versione nuova, inizino, grazie al fatto, che c'è l'SP, a utilizzare quello, per fare un refactoring, un po' più furbino, un po' più fatto meglio, perché, perché questo, cioè, funziona, funziona, di per sé, ci trova le unit, il problema è che, dopo quattro volte, che lo usi, ti dà un out of memory, ci sono un po' di, ha un po' di, di problemini, quindi, perché è un'implementazione, basata sul, non sul compilatore, ma come si vede, anche un po' dallo stile, dei pulsanti, è, è, parte dotnet, in poche parole, usa il code DOM, usa una, una vecchia interfaccia, di, di, che si costruisce, un albero, del codice sorgente, quindi un vecchio parser, spero che la cambino, perché anche il refactor, di base, è tutto, incentrato su quello, mentre, come dire, se usiamo, usiamo un tool, appunto, come, MMX, che, le sue cose, funziona molto meglio, ad oggi, rispetto a quello, che è incorporato in Delphi, perché, ha bisogno di un, ha bisogno di un refresh, con la nuova tecnologia, che hanno messo, di, ispezione, error in sight, del codice sorgente, il famoso server LSP, quindi, attendiamo fiduciosi, che si completi il passaggio, l'unica cosa bella, che però, questo componente, è quindi, prendere i parametri, che passa quella funzione, da fuori, ma, da quello che vedo, è interessante, perché alcune proprietà, le posso cambiare, anche da qui, quindi, le position, di che ho praticamente, devo spostarmi di schermo, non c'è più solo XY, ma è una position 3D, quindi, ho anche la Z, e anche sullo scale, che dice, quanto è zoomato, il rapporto è 1, sì, perché io posso dare, una lunghezza di 1, oppure di 2, e poi stabilire, cioè, lasciare invariato, iniziare a scalare, cioè, a zoomare i vari, i vari, a aumentare il fattore, quindi, 2 per 1, aumento la scala, lascio invariate, altezza e larghezza, magari con le proporzioni, però c'è anche questa profondità, 1, 2, 3, che sta, me lo sta facendo, praticamente, ovviamente ruotare, su se stesso, però, la cosa bella, è che queste cose, si possono impostare, anche con le maniglie, quindi c'è questo, rotation angle, anche l'angolo di rotazione, cioè, tutto quanto, praticamente, tra la posizione, la rotazione, la posizione, la riscalatura, hanno tutti, tre valori, perché, chiaramente, in 3D, si ragiona, con x e y, ma c'è sempre anche la z, quindi, rotation angle, vuol dire, che se io vado a cambiare, z, e lo metto a 100, lo metto a 90, x e y, cambiano questa roba qui, allora, questa è sempre la z, se ho capito bene, solo che, li ho talmente girato, che mi sono, aspetta che, lo resetto così, allora, questo sarà la x, immagino, no, la y, giusto, perché quello, è verticale, e quindi, lo ruota di così, potrei anche riscalarlo un po', oppure, lo metto, adesso, lo allargo un po', depth 10, oh là, questo adesso è un bel, un bel cubettone, che si vede bene, forse un po' esagerato, però va bene, lo metto uguale così, quindi, questo cambia la rotazione, della y, perché, il mio cubettone, giustamente, gira, ah, non riesco più a prenderlo così, perché l'ho messo nella faccia dietro, ok, questo che roba è? Ah, questo cambia le dimensioni, ok, quindi, questo fa la x, perché, perché se lo muovo su e giù, lui sta ruotando su quest'asse, cioè, questo, lo fa spostare su e giù, però giustamente, la rotazione avviene su un'asse, che è questo, orizzontale, quindi la x, se invece faccio questo, lo faccio ruotare su se stesso, quindi tipo ballerina, perché poi ruota attorno a questo asse, se uso questo, è l'asse 3D, cioè, gira così, quindi, quindi carino, perché posso impostare, aiuto, cosa è successo? Ho pigiato un tasto, che mi ha attivato, una roba, vabbè, so che la live si veda bene, ho schiacciato, si vede che avevo il focus su VBS, ho attivato una funzionalità, che non, mi vedo due volte, quindi, preview, click transition, ci possono fare gli effetti speciali, bellissimo, no, non clicco, perché se no, finisce che vado, mi vedete, non so, scomparire, qualcosa del genere, c'è un fate to black, no, facciamo uno lì, che sì, no, ma infatti, vedevo, c'è una preview, è un, magari imparerò come si usano, quindi, però vabbè, la regia non è proprio il mio massimo, e quindi, ok, quindi questo è imposto le primitive, però i parametri vengono da qui, e si possono cambiare anche con questi bei maniglioni, quindi le dimensioni, cambio da qui, qui ruoto da una parte, qui ruoto dall'altra, e qui c'è la z, che si fa la y, oppure vado nell'editor e lo imposto, se cambio ovviamente la scala delle x, metto due, raddoppio praticamente le dimensioni, e quindi, questo lo faccio se una volta stabilito la grandezza del, dell'elemento, voglio andare a, a variare le cose, ok, fin qui ci sono, fin qui ho capito, ok, quindi, quindi se dobbiamo fare un cubo, meglio usare il componente, perché è molto più, è molto più sbrigativo, la cosa carina, che mi verrebbe da provare subito, anche se non c'è, questo suggerimento qui, per dire, è che si potrebbe, come dire, qui c'è la creazione di un wild frame, ma poi me lo guarderò dopo, la cosa carina è dire, ok, supponiamo di, impostare, tutto in maniera un po', come era prima, un bel cubo, un bel cubo, normale, con la rotazione, di default, quindi, visione frontale, nessun problema, il power di, FireMonkey, dovrebbe essere che io, ho le animazioni, color grain, float animation, quindi animazione di un valore float, che potrei, utilizzare per, animare la rotazione, ma in realtà, probabilmente, lo posso fare anche da qui, no, ma qui non me lo fa fare, strano, di solito, ci sono, sull'opacità c'è, sull'adapt c'è, sulla rotation, non l'hanno inserito, probabilmente perché, dipende anche dagli assi, quindi, vabbè, poco male, float animation, la metto come figlia, dello stroke cube, del cubo, quindi, qui mi vedo, le proprietà del cubo, si che ci sono, vedi che ci sono, e quindi, se io metto una rotazione, sull'asse z, quindi, lo faccio girare su se stesso, quindi lo faccio, ruotare in senso orario, in senso anti-orario, metto 360, la abilito, gli do, facciamo anche un secondo, lo metto in loop, e, così, quando io lancio l'applicazione, dovrei vedere qualcosina, del tipo, il cubo, che si, esatto, che si, scorna, sull'asse z, e quindi, ruota, bellino, bellino, o si possono chiamare, direttamente, funzioni opgl del form, so di sì, perché poi, tutta l'implementazione, di questa libreria, fondamentalmente, è una, non so cosa si intende, con funzioni opgl, quello che vedo, a volte, è che praticamente, ci sono alcune istruzioni, dove lui affida, un pacchetto, al layer, di opgl, che poi lo porta, alla scheda grafica, c'è un pacchetto, di istruzioni, soprattutto, per animazioni, mi sembra, scritto in un altro linguaggio, come se fosse un linguaggio, della scheda video, quindi, sì, il concetto, è che, comunque, tu hai le unit, cioè, questa è una sovrastruttura, e quindi, se si va, a pescare, in basso livello, il discorso, è che non so bene, dove cercare, perché non sono un esperto, però, anche, sulle animazioni, process animation, alcune interpolazioni, cioè, so che qui, in questa applicazione, se andiamo a vedere la CPU, la CPU dovrebbe essere, tra l'altro, praticamente, a zero, sono un po' troppi applicativi, però, ce l'abbiamo, sta sempre a zero, perché sta lavorando, sempre sulla scheda grafica, quindi, è tutto affidato, alla scheda grafica, tramite, tramite, tramite la libreria, che trova, che normalmente, dovrebbe essere, su Windows DirectX, su Mac, c'era OpenGL, poi adesso usa Metal, se non ricordo male, e su altre piattaformi, c'è OpenGL, cioè, l'applicazione, ha il suo, usa dei service, dove va a istanziare, del ShareContext, qui non mi fa, navigare parecchio, non mi ricordo, ve l'avevo vista, però, era un esempio, con dei Blender, c'erano un po' di, c'era un po' di roba, mi aveva così, colpito l'occhio, qui tutto, sembra tutto Pascal, però, se vado sotto, in FireMonkey Version, Disable Global Effect, questa, in realtà, è una, Use Direct2D, OpenGL, Use GPU Canvas, Use Metal, ci sono vari, usa Dx10, ci sono varie modalità, per scegliere una libreria, ci sono vari modi, di entrare nel, però, avevo visto un gioco, stile, stile Arkanoid, che era fatto tutto, chiamato delle primitive, quindi, che infatti, ha detto, che bello, come ha fatto a fare in Delphi, ha usato Delphi, poi ha chiamato una funzione, gli ha passato un pacchetto, con, il Blender, una cosa, penso, fatta, tra l'altro, con Schia, quindi, con, con un'altra libreria grafica, che può sostituire, interamente questa, quindi, cioè, FarMonkey, da questi componenti, da queste funzioni, poi, dietro le quinte, quando io vado a disegnare, il disegno, in realtà, viene affidato, a un qualcosa di intermedio, questo Draw Cube, che crea questi, questo Vertex Buffer, poi alla fine farà una Draw, in qualche modo, Draw Lines, se io continuo ad andare, verso, Apply Material, scendendo sempre di più, Set Shader Variable, Do Set Shader Variable, vado sempre più sotto, e dovrei arrivare a una qualche implementazione, qualche API, questo Context 3D, che lavora con una delle librerie, quindi, bisognerebbe, Type 3D, Graphics, ma non so, qual è la unit, per cui, non riesco, ad arrivarci, al momento, però, so che, adotta, quel tipo di, di tecnica, quindi, comunque, fa riferimento alla, Vertex Buffer, è OpenGL, esatto, quindi, probabilmente, è un qualcosa di molto simile, non è magari, proprio il suo, ma c'è una conversione, il più possibile, diretta, ma, avevo proprio trovato, questi pacchetti, di istruzioni, che venivano sparati al, infatti, qui, ci sono anche, delle patch, perché, c'è questo Dash, qui dice, se siamo sul Mac, adotta, delle altre misure, perché dice, questi valori, non, i valori, sono sperimentali, per avere un effetto simile, perché quelli standard, non hanno lo stesso effetto, ci sono anche un po' di, di, gestione di casi particolari, legati alla piattaforma, per avere, possibilmente, lo stesso aspetto, il, è una cosa uniforme, ma è una roba, abbastanza complessa, non ci sono mai andato, troppo dentro, ma, come dire, è decisamente ricca, ci sono i font, ci sono, comunque, sì, volendo, ci si arriva a basso livello, perché ho visto, delle implementazioni, dove non c'era, proprio questo codice qui, ma è un linguaggio, che non capivo, dei byte, proprio, passati direttamente, alla scheda video, quindi bypassando, quindi, questo gira, sta usando solo la, la GPU, infatti la CPU è a zero, e quindi, c'è proprio un thread, è un lavoro affidato, impacchettato, è affidato alla scheda grafica, che gli dice, tiè, devi fare, devi disegnare questo, e fare questo, e lo te lo devi animare, quindi, è tutto delegato, al, a qualcosa di esterno, però, gestito, configurato, vabbè, adesso un cubo che ruota, eh, quindi, questo potrei evitarlo, e potrei usare, direttamente il cubo, infatti, per non appare più, e farlo ruotare, con una delle animazioni, poi, ci sono anche, le varie funzioni, di interpolazione, perché quella è lineare, poi c'è quella, che lo fa elastico, perché, perché probabilmente, è un po' veloce, se gli do un tempo più lungo, ci sono anche, le varie funzioni, dove, non è sempre uniforme, ma magari parte veloce, poi rallenta, poi riparte, fa questa roba qui, gni gni gni, che balla un po', e poi fa l'effetto, cioè, è la funzione, che poi, fa l'interpolazione, tra il tuo start e stop, che non è lineare, lo vedi sempre girare, poi c'è quello che, parte veloce, rallenta, oppure, va piano, e poi, va più veloce alla fine, fa il rimbalzo, fa questa roba qui, chiaramente, applicata, l'applicazione business, questa roba, non avrebbe, molto senso, ma a volte, può aver senso, quando uno si trova, a dover fare, questo, si usa anche col 2D, quindi, se ci metto un pulsante, fa la stessa, la stessa cosa, la cosa bella, è che c'è pure una grid, tridimensionale, una griglia, che ad esempio, possiamo mettere, su un, su un form, e la puoi, la griglia, ha proprio, i record, su cui è finito, dietro il cubo, quindi, c'è il cubo, che me la, e, che prova a ingrandirla, c'è una griglia, dove tu puoi andare, a mettere dei componenti, ma c'era proprio, anche la grid, o, un, un contesto, bidimensionale, se non mi ricordo, ho visto un esempio, dove c'era, praticamente, questa, sì, perché una grid normale, nel form, non, non riusciremmo, a vederla, mentre sulla grid 3D, probabilmente, c'era questo cubo, che girava, e c'erano delle, praticamente, nel cubo, c'erano dei data grid, la griglia, proprio con i dati, riuscivi a modificare, il dato, vedevi che lampeggiava, digitavi, e inserivi il valore, però a volte, finiva dietro il cubo, c'era della roba, della roba strana, e quindi, dal sito cronus, adesso è un wrapper, sì, questo è Firemonkey, quindi, la libreria fatta, con i componenti, più, un, quindi, una sovrastruttura, che non ti, non ti richiede, di conoscere, OpenGL, perché la traduzione, la fa, in automatico, poi, OpenGL, è una delle alternative, quindi, su Windows, ho chiuso, DLTX, su Mac, usa, Metal, tale, cioè, diciamo, ci sono diverse, che vengono scelte a scalare, in base alla disponibilità, poi, nel, e se, io uso, Schia di Google, che è un'altra libreria grafica, che poi, a sua volta, utilizza, che è una DLL, eccetera, posso basarmi, su quella, c'è una, una funzione da importare, di usare Schia, e, a quel punto, tutte le, le, i disegni, vengono fatti, con quella, che è un po' più accurata, un po', fa un po' meglio l'anti-aglias, questa è un po' più, ehm, un po' più scattosa, un po' più, grezzolina, come nel disegno, invece, i caratteri, ad esempio, soprattutto il test, scritto con Schia, è molto più, l'abbiamo usato in qualche live, perché c'ha delle cose carine, il test, il tratto con, la, l'anti-aglias, è fatto molto bene, quindi, ha una resa grafica, e poi, legge gli SVG, legge i PDF, legge, è una libreria grafica, che è molto complita, ok, questo mi è chiaro, quello che vorrei capire, adesso, è, la questione, del source, e del, ok, quindi, c'è un altro, piccolo demo, che fa fare, che è, moving earth, quindi, la terra, questo mi, mi intriga, come, perché è già qualcosa, che, mi assomiglia più a un qualcosa, che posso rappresentare, quindi, quasi, quasi, quindi, gli faccio fare, una nuova applicazione, multi device, 3d application, ok, così me la crea, me la vado a salvare, come si chiama, beh, la chiamo, moving earth, quindi, moving earth, forms main, e il progettone, lo chiamiamo, moving earth, ok, questa è sempre, la main form, name, main form, caption, moving earth, moving earth, lui dice, di aggiungere, un dummy component, al form, cioè, c'è proprio un comune, che si chiama, dummy, ma sì, 3d scene, quindi, c'è proprio, una sezione, la palette, dedicata, ah, carino, sembra un cubo, con una faccia, non capisco, però, c'è un colore, molto leggero, e quindi, non si riesce a vedere, magari, se cambio, color al form, posso farlo, un fill, non c'è, form factor, camera color, form, form style, no, normal, dovrei mettere, ah, sì, c'è il colore, c'è qui davanti agli occhi, perché non lo vedo, magari, la faccio, qualcosa, di blu scuro, o di molto scuro, perché, se devo fare, un globo, ecco, adesso si vede, il, il dummy, si capisce, anche un po', come, come messo, quindi, questo dummy, che cos'è, è un, è un componente, come dice, non un fantoccio, che ha, come ruolo, il fatto, di poterci mettere, dentro delle cose, stanno, quello che dice qui, cioè, il problema qual è, che noi, abbiamo prima, abbiamo un cubo, mettiamo di dover mettere, un cubo, e altre cose, dentro, cioè, nella nostra form, se ad esempio, zoomiamo, tutti gli oggetti, dovranno subire, lo stesso zoom, e quindi, raddoppiare le dimensioni, questo vuol dire, che, non possiamo, cioè, andare ad agire, su ognuno, raddoppiando lo zoom, è un'operazione, un pochino, stupida, nel senso che, usando questo dummy, potremmo dire, potremmo far sì, che questo abbia, una sua dimensione, quindi, questo è il contenitore, per tutto quello, che vogliamo mettere, all'interno, dell'oggetto, quindi, se ad esempio, noi, facciamo, questa cosa, abbastanza profonda, se prova, metterci dentro, uno stroke cube, lo stroke cube di prima, che diventa il suo parent, e lo rendo, un po' più, un po' più grande, così lo vediamo, questo è il cubo di prima, cubo di prima, ovviamente, che è un colore diverso, adesso lo metto, non bianco, lo metto, giallognolo, verdognolo, tiè, così si vede, faccio un po' più piccolino, dovrebbe stare, dipende da dove lo posizioniamo, perché a questo punto, la position, è la position del cubo, 000, vuol dire, che sta perfettamente, nel centro, di questo oggetto dummy, quindi, questo è il contenitore, questo sta dentro, vuol dire, che se l'oggetto dummy, viene riscalato, per essere, zoomato, ad esempio, due volte, per l'asse X, due per l'Y, e due per l'asse Z, quindi, ci avviciniamo, anche il cubo, diventa scalato, due volte, quindi, se abbiamo più oggetti, dentro questo contenitore, questo è un po' come se fosse, una scatola, se la zoomiamo, zoomiamo tutto, e quindi abbiamo, le caratteristiche comuni, se dentro ci sono, più oggetti affiancati, tipo due cubi, se facciamo ruotare, questo dummy, e facciamo ruotare, anche quello che c'è dentro, quindi, se qui, tipo, allora, asse Y, non gli dico, di 10, gli dico che anche il cubo, si è messo a guardare, da un'altra parte, quindi, fa praticamente, da, da wrapperone, però, da quel che poi posso capire, se lancio, non vedo, quella cosa azzurina che vedo, non la vedo, in realtà, no? Perché quello fa solo da contenitore, dovrei vedere solo il cubo, esatto, quindi, questo è un po' il, il concetto, quindi, se ne metto un altro, vabbè, si è capito, insomma, qual è la, qual è la, la questione, quindi, interessante, perché, ovviamente, non avrò sempre solo un oggetto, ma avrò un, avrò anche questo, un tenitore, tra l'altro, con due lati, B, two side, questa è una cosa che poi mi andrò a, capire meglio, quindi, visible content menu, ci sono già delle proprietà, però, non le conosco, non so, adesso rimango, un attimo in stand by, buonasera, programmatore degli oracoli di Delphi, Delphi si chiamava così, perché, inizialmente, era il programma, linguaggio di programmazione, che abbiamo usato per parlare con l'oracolo, cioè Oracle, cioè il data viso, quindi, ciao Vision, ben arrivato, non mi ricordo se streammi anche tu, e che sto per sempre di mancare qualche shot out a volte, e quindi ci stavamo divertendo un po' con le, con 3D, vabbè, questa era veramente orrenda, questa merita la, per me è una cagata pazzesca, eh, non stream, quindi, neanche gaming, perché ultimamente ho fatto, un paio di live di gaming, quindi sono proprio, pessimo, è, giusto per variare, quindi, ho fatto la, compila, quindi gioca, vabbè, ci stava, dalla fine la piattaforma è quella giusta, e per cui, ok, quindi questo, dammi, questo fantoccio, è chiaro quello che serve, eh, quindi, nel 2D, usavamo il layout, nel 3D, il concetto di parenting, ovviamente, è molto importante, sì, perché nel 2D, c'è il concetto che tu puoi mettere ogni cosa dentro quello che vuoi, quindi, puoi mettere un pulsante dentro una casella, dentro un altro pulsante, li puoi incapsulare, però, se sposti il parent, tutti i figli, ovviamente, lo seguono, e quindi, il concetto è, mi sa che mi intervisti i tuoi games, ma seguo solo la programmazione e scacchi, eh, no dai, vabbè, almeno mi accontenta la programmazione, ma solo scacchi, ci sono un sacco di giochi interessanti, c'è ne uno che mi fa, morire da ridere, ma, che si chiama Gang Beast, mi sembra, e sto provando Rust, Rust, mi è rimasto lì, da quando ho visto quella sessione dal vivo, che lo diceva come, la prossima volta è un gioco decente, non fasmofobia, che è inguardabile, eh, è veramente orrendo, dal punto, è fatto con Unity, quindi ci vuole un po' di pazienza, è inguardabile, però è molto giocabile, cioè, vedere che altri giochi, vengono giocati, poi vengono dimenticati, quello, sono tre anni che trovi chiunque, a farlo in live, un po' come chi gioca un Among Us, o questi, perché quando il concept, è fatto bene, adesso, vabbè, fasmofobia, insomma, come dire, sì, concept, non è che stiamo parlando, del Tetris, ovviamente, però, eh, ci sono un sacco di imitazioni, quindi comunque, non sarà stato il primo, però, diciamo che si fa giocare, soprattutto, lo giocano pure le ragazze, quindi, a gioco streammato, non si guarda in bocca, e poi, poi io non, non gioco i giochi ora, perché mi fa un po' pure, quello lì, ma mi ci sono abituato, e quindi, se no, andrei a emulare, un po' di giochi di Amiga, mi piacerebbe tornare a giocare, a Batman The Movie, su Amiga, ma solo per fare il livello della Batmobile, quindi, prima o poi, metterò questo streaming, farò questa cosa, questa è una provocazione, a gioco streammato, se è una citazione di qualcosa, non, che non conosco, non lo so, però, quindi, qui siamo ancora, a livelli ancora più bassi, perché, eh, stiamo, proprio, abbiamo un cubo, quindi, prima che arriviamo a fare il gioco, quindi, il concetto, è importante, quindi, tutti, se mettiamo dentro questo, dummy component, come parent, quindi, che è un po' il, diciamo, il segna posto, se noi, cambiamo posizione, rotazione, zoom, lo facciamo a tutti quelli che contiene, ok, potremmo chiamarlo, qui, suggerisce di chiamarlo, dummy scene, chiamiamolo, dummy scene, il cubo, ce l'ho messo io, per fare una prova, però, lo vado a togliere, perché, dovrei metterci dentro, una, sphere, vediamo, com'è, sphere, Britney sphere, questa è ancora più orrenda, ok, chiamiamola, Earth sphere, adesso, gli do un po' di, di profondità, e di, di cose, anche quattro, dai, un po' più, ovviamente, fammela, possibilmente, fammela uniforme, altrimenti, una bella palla, ok, e poi, che ci posso fare, espando la sua scala, fino a 5, beh, gli ho cambiato le dimensioni, e, quindi, dimensioni della scala, ok, fin qui, ecco, così si eleva il content, che evoluzione, e, ah, ecco cosa ho schiacciato, c'è studio mode, ok, adesso ho ripostinato, ho notato quella cosa, che ho schiacciato per sbagli, è un dietro le quinte, quindi, eh, allora, ok, quindi, abbiamo una sfera, immagino che vorrà, rappresentare una terra, eh, usiamo il componente, texture material source, ok, texture material source, ma material source, è ancora più orrenda, giovedì, cioè, così, eh, che, facciamoci caso, immagino che debba essere, eh, figlio, diciamo, gerarchicamente, della, della sfera, quindi, praticamente, abbiamo il form 3D, il dummy scene, così abbiamo il fantocino, cioè, abbiamo le proprietà da modificare assieme, e se mettiamo oggetti tutti dentro questa scatola, le cambiamo in una volta, c'è la sfera, e c'è questo texture material source, che immagino che prenderà un'immagine, e la spalmerà sul, sulla sfera, giusto, 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 qualcosa del genere, quindi, di fianco a bitmap, c'è, intanto qui c'è anche il tastino, create, come si fa a animare un bitmap, che non è vettoriale, non lo so, forse passiamo da un bitmap all'altro, qualcosa del genere, ok, edit, bitmap editor, posso disegnare, no, non voglio disegnarlo, faccio un load, e cerco, che cerco, devo cercare una, qualcosa che assomigli, al pianeta terra, earth image, sì, ma non così, c'è piatta, da avvolgere, se scrivo flat earth, mi tira fuori, roba sulla terra piatta, che non ne voglio neanche sapere, earth, però così deve andare bene, magari, mi chiedo un po' più di risultati, mi salterà fuori qualcosa di, di simile a quello che sto cercando, cioè, quello, io voglio riprodurre una cosa così, ma mi serve, spappolata, quindi, mi serve, srotolata, in poche parole, la terza, per l'altro, non è oggi l'earth day, quando è? earth day celebration, che so che era, mercato, earth plane, ah giusto, plane, non flat, perché se no mi viene fuori quella roba là, plane image, oh, questa già, questa già mi piace già un pochino, non me la, non voglio prenderla coperta da copyright, che più dopo, però, se guardo queste, mi darà delle simili, ok, questa è presa da google, questa è un po', è un po', un po' vivida, un po', le più belle sono su, i stock, ad hub stock, sono effettivamente belle, quindi, mi sto facendo un po' troppe, sì, decisamente, parte poi che mi frega, tanto devo mica, allora, fammi vedere questa, teno un attimo lì, come diceva amicio, il personaggio di, no, apri l'immagine, la nuova scheda, questa è un po' piccolina, questa non va bene, air day, è aprile 22, quindi, manca, da due giorni, è così, altrimenti, forse si trova su wikipedia, giusto, è vero, sì, va bene anche jpeg, va bene, va bene anche questa, mi sono dimenticato, di dirgli, qua, sopra, strumenti, dimensioni, grandi, alla fine la migliore, era questa, la migliore è questa qui, non c'è niente da fare, ma di morte, sono dei coltelli, che non c'entrano, cosa possono c'entrare, non ne ho idea, però, alla fine, queste sembrano, quelle un po' più, big earth, big earth, c'è il nome, big, grungi, quindi lo teniamo, e, questa è quella di prima, questa è un po' piccolina, o no, va bene dai, ci accontentiamo, oh, questa, bella gigante, questa non è male, anche questa non è male, teniamola lì, per vediamo qual è, qual è la migliore, 22 a tutti a saltellare felici nei campi, è una terra, è una terra, come dire, terra di mezzo, proviamo big earth, ok, non è successo una mazza, perché, perché forse, perché devo, non c'entra di chi è figlio, ma va assegnato, ah, è vero, è vero, perché, chi dice che io questo lo devo usare solo per questo oggetto, quindi non c'è un rapporto, necessariamente, di padre figlio, ma il componente sta lì, e basta, e gli posso associare qualunque cosa io voglia avvolgere con questa carta, in poche parole, quindi material source, text material source, oh, che bellina, adesso provo, provo l'altra, che volevo capire, l'altra meno colorata, sembra più, più raffinata, però è meno colorata, però è più raffinata, è anche più grande, quindi, non lo so, sono indeciso, sono indeciso, e per decidere dovrei, dovrei provare a ruotare, sulle Y, esatto, volevo, prendere il maniglino, oh, beh, però dai, non, non fa un effetto così, così malvagio, l'altra forse, è più evidente, perché è molto più colorata, e quindi, si nota di più, dai, uso questa che, che dai, è più raffinata, immagino già che cosa mi farà fare, allora, qui, ok, la Y adesso lo rimetto a zero, così ripartiamo da qui, ecco perché c'è la scala, perché se io cambio altezza e larghezza, aumento solo la scatola, la terra rimane al centro, se invece io cambio scale, e metto due, giustamente, e vado a zoomare, vado a zoomare, ovviamente sono float, quindi potrei mettere anche 1.2, se lo scrivo bene, forse, 1.2, ok, 1.2, 1.3, si, scala un pochino, quindi potrei fare 1.5, 1.5, ok, come si vede, un po' più, grandicella, in questo modo, ho applicato uno zoom in generale, poi vediamo che mi dice di fare di bello, immagino che mi dirà di far ruotare la boccia, infatti voglio vedere questo effettino, beh, o comunque, senza codice, avendo una cartina del mondo, senza schiena riga di codice, qui ci vuole, ok, float animation, ah, è la cosa che abbiamo fatto prima, sul cubo, quindi perfettamente la stessa cosa, float animation, quindi animazione di un float, che cosa vogliamo animare, rotation, angle, Y, perché la facciamo ruotare sul lato lungo, alto, cioè quello verticale, quindi Y, partendo da zero, arrivando a 360, quindi dopo riparte da zero, ma praticamente la stessa cosa, lo mettiamo in loop, lo facciamo durare, non 0,2 secondi, che non si vede niente, ma anche due secondi, ti è, tanto poi va in loop, enable the true, il trigger inverse no, auto reverse no, perché sennò la vediamo andare avanti, indietro, interpolation deve essere lineare, quindi, non lo voglio vedere, cioè, deve girare a velocità costante, ecco, diciamo, ok, a questo punto provo a lanciare, vediamo che cosa mi fa vedere, dovrebbe partire in automatico, direi, com'è, oh, la palla, la nostra palla, e quindi, ah, ok, quindi il dummy, siccome ha una certa posizione, la mantiene, e quindi, se io, allargo e riscalo, adatta in automatico, diciamo, la viewport, alle dimensioni del form, quindi la vedi, più o meno sempre, nella terza posizione, quindi, beh, come effettino, non è male, se dovessi, non so, implementare una cosa del genere, come, magari, una cosa sul meteo, lo metti come sfondo, lo metti così, cioè, in due secondi, comunque qualcosa hai, hai ottenuto, si può dire, quindi, 2,4 secondi, così, imiti il giorno, in 2,4 secondi, dovremmo essere precisi, se vogliamo essere precisi, andrà un po' più pianino, pena pena, non è che, già prima, ok, immagino, però, che, ok, quindi, position, ovviamente, se fosse la z, vedrei, ruotare come un disco, e quindi, non, cioè, non andrebbe bene, se mettessi la rotazione sull'asse X, vedrei che gira sull'altra parte, non è proprio, non è proprio il massimo, ma, ok, Sphere Earth Click, quindi, Double Click, e ci sono, ovviamente, la questione delle interazioni, quindi, sul Touch Event, Float Animation, oh, passa già direttamente, su una scena interattiva, sarebbe stato interessante, come dire, agganciare questa cosa, al, questo che eventi ha di bello, un click, Drag Drop, Mouse Wheel, sarebbe interessante, fare, ovviamente, c'è un esempio di click, che fa un piccolo zoom, ci sta, vabbè, si può provare, sul click, giusto, esatto, cosa succede, che possiamo lanciare, anche le animazioni, da codice, qui c'è un if, qui dice, se, Earth Spear, position, zeta, è minore di zero, allora, usa, c'è questo oggetto, animator, che fa partire, delle animazioni, perché il componente, è comodo, in quanto, lo piazzi lì, gli dici, ok, tu fai, da qui a qui, va in loop, abilitato, questi sono i parametri, quello è l'oggetto, che è quello che contiene, l'animazione, via, puoi andare, ma a volte, c'è bisogno di farlo, anche a fronte di un, come dire, di una, azione dell'utente, di usare l'animazione, se dobbiamo fare, diversi responsi, non dobbiamo mettere giù, tutti i componenti, necessariamente, ma possiamo usare, l'animator, per fare una sorta, di animazione, che parte, si applica, e poi, quando ha finito, il suo lavoro, si autodistrugge, quindi, è come se noi, creassimo un componente, temporaneo, che simula, l'animazione, animate, float, quindi, è un'animazione, di tipo float, bisogna dire, di qual è il target, quindi, il target, è la sfera, ok, la, proprietà, property name, position, punto z, valore da usare, nuovo valore, 1, duration, 0,2, quindi, praticamente, passa, in 0,2 secondi, al valore 1, se è negativo, perché è negativo, perché nell'else, andiamo a fare, ah, ok, quindi lui, con un click, la avvicina, e con un click, la allontana, ok, fa questa roba qui, earth sphere, position, sempre, z, ok, fa un, meno 1, 0,2, quindi, stessa durata, quindi, la avvicina, la allontana, fa un po', questo tipo, di operazione, io gli ho già dato, però, un, position, beh, gli ho dato uno zoom, c'è il position z, che dovrebbe essere a 0, quindi, se clicco, si avvicina, se clicco, si allontana, però, lo fa, diciamo, che dovrei fare, come dire, mettiamoci un, 2, e meno 2, e, magari, anche con un po' più di tempo, un mezzo secondo, così, fa uno spazio più ampio, e fa anche più, come dire, ok, gnak, gnak, chiaramente, mentre si avvicina, sì, gatto, c'è il gatto, che non si vede, perché lo sto coprendo io, ma, si sta facendo, non riesco a, a spostarmi, sta preparando il nido, vai a letto, ciao, ciao, c'è lo sguardo interrogativo, quindi, se incline di 23 gradi, hai anche l'asse reale, quindi, cos'è la Z, dovrebbe essere, eh, dovrei girarlo sulla Z, tu dici, che è quello, cioè, vabbè, qui non sono gradi, penso, o sì, può darsi, forse sì, sono gradi, perché, se metto un 90, sì, sì, sono gradi, quindi 23, quindi, se scrivo 23, sono proprio 23 gradi, sull'asse reale, proprio, dobbiamo essere, sulla X, aspetta, cioè, dovrebbe essere così, in teoria, occhio che, sulla X, devi pensare sempre, che però, al giro, lo fa, sulla X, praticamente, la ribaltiamo, la giriamo, così, se hai, se hai l'oggetto, se tu, ruoti la X, fa questo lavoro qui, sulla Y, come noi, che facciamo girare la Terra, fa questo, e la Z, è questa roba qui, quindi, è sempre, bisogna sempre, me lo devo sempre ricordare, perché non, però sì, diciamo che, facendola girare, di così, ti viene a pensare, la X, anche se in realtà, è la Y, perché l'asse è dritto, su cui gira, però gira in orizzontale, quindi ti viene in mente la X, e, quindi, ci vorrebbe un timer, che la riporta, oppure, con un auto reverse, perché tra l'altro, l'animazione, c'ha tutto, nell'animazione, c'è un, un delay iniziale, e poi mettergli, che è sul finish, poi andargli a cambiare i parametri, metterli in auto reverse, e poi di stopparsi, quindi, vabbè, qui voleva fare vedere, chiaramente, che si possono creare, anche da codice, alla bisogna, tu gli dici, questa proprietà va animata, deve andare a questo valore, in tot secondi, lui te lo fa, quindi, cioè lui mi prepara, sto pacchetto, lo manda alla scheda grafica, e gli dice, ehi, c'è questa roba da fare, e, perché la CPU è sempre a zero, e quella cosa viene eseguita, in un contesto separato, in un thread, forse vado troppo, mi va troppo sullo sfondo, solo avvicino un po' di più, e, e chiaramente, tutta l'animazione è combinata, cioè, mentre lui, ingrandisce, continua a ruotare, cioè, chiaramente, deve essere tutto, ah, ma che scemo, più aumento, più vado in là, quindi, forse vista dal sole, la terra gira in senso inverso, sì, 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 no, ma sto pensando a tutte le simulazioni che ho visto, e adesso stanno andando alla rovescia, probabilmente, ah, questo non è un problema, vai, si va qui, e lì si dice, inverse, e quindi, non devi neanche stare a mettere, ok, no, vai in questo senso, lasci i parametri, se metti inverse, viene tutto, eh, invertito, eh, come qui, non sto attento, ma più aumento il valore, io volevo avvicinarla, questo è il valore che la avvicina, questo la allontana, perché più incremento la z, cioè, quando è a zero, ce l'hai lì, o comunque ce l'hai sul piano, più aumenti, più va sullo, più va sullo sfondo, eh, vediamo se adesso cambia anche il verso, eh, è uguale a primo o sbaglio? No, no, è invertito, no, è giusto, com'è, e adesso dovrebbe diventare più grande, e poi tornare, diciamo, a uno, quindi piccolina, meno quattro, diventa più, a ogni click, fa, diciamo, un po' il suo, il suo viaggetto, stavo cercando di vedere, allora, qui, eh, mannaggia, mi sono dimenticato, di metterlo in carica da un sacco di tempo, sarà già, stramuerto, muerto e stramuerto, volevo fare una prova, una prova sul mobile, per vedere se viene un po' diverso, ma, adesso, se vi raggiungiamo anche la luna, vabbè, astronomicamente, ma scusa, la luna e il sole, non sono due artefatti umani, sulla terra piatta, che, che girano di così, mi sono guardato un paio di, di, un paio di live, dove gente, cerca di, di confruttare, fa domande, diciamo, ai terapiattisti, cioè, non so, mi esplode la testa, e quindi, tutto falso, perché ti hanno detto, che è tonda, ma, ho capito, però, se credi che è piatta, perché ti hanno detto, ti hanno convinto, che è piatta, anche perché, comunque, se poi manca l'anello, di ghiaccio, quell'anello, dove, non va nessuno, perché stranamente, allora, no, l'immagine l'abbiamo trovata, quindi, questo lo posso, chiudere, non saprei dove, collocarla, no, però è chiaro, che uno che avesse, qualche riferimento, se vuole fare un, un programmino, dove, riesce, come dire, un minimo, a, a posizionare, le varie cose, come dire, là, così, diventa, c'era un ben chiuso, che diceva, che la luna, era una scodella, ecco, forse, quello, è quasi più probabile, secondo me, che, speriamo, che sia anche pieno, no, io sono a dieta, quindi, non posso, non posso pensare, a queste cose, qui, metto così, così si capisce, che sono valori float, no, è carino, tra l'altro, queste due, se clicco e riclicco, dovrebbe combinarle, dovrebbe fare, forse qui, fa un po' di casino, perché, bisognerebbe, perché, perché ce n'è più di una, che parte, quindi, però, vedo che, bene o male, le combino abbastanza, e, quello che non sono i catenisti, quello che penso, che a tre, sia un catino, se fosse piatta, l'acqua, cadrebbe fuori, ah, è vero, è vero, che c'è anche questa teoria, giusto, finirebbe sotto, però sotto, c'è l'inferno, e, no, bello, interessante, ovviamente, con punti di riferimento, completamente arbitrari, con la prima immagine trovata, però, diciamo che l'effetto, l'effetto di per sé, ci sta, questo telefono è proprio morto, ma sta un po' senza, senza essere usato, ok, l'esercizio, non vorrei aver dato via, ad una nuova corrente di pensiero, ah, e beh, sì, eh, questa te la, te la provano subito, perché, dà una spiegazione logica, ovviamente, alternativa, che la NASA ti mente, e quindi non ti dice, spiega, esattamente, perché l'acqua rimane di dov'è, e quindi, eh, bello, questo non è carico per accendersi, però se adesso lo accendo, è il 91%, mmm, mmm, questa batteria di questo telefono, poverino, non ce n'è, un cavo USB, da usare, secondo me, la batteria di questo telefono, è pronta alla morte, se stacco questo, secondo me, arriverà a morire, nel giro di due secondi, allora, però fammelo provare, ad attaccare, prima che muoia, nonostante la batteria, è al 90%, scegliere un'operazione per il dispositivo, si, non la scelgo qua, ma la scelgo qui, anche se non mi ricordo mai, come va impostato, trasferimento file, mi sembra, ok, e, bisogna lanciare, se funziona questo, allora funziona anche il resto, infatti non ha funzionato, ah beh, che devo consentire il debug, giusto, vediamo se adesso rimane collegato, sì, no, sì, è lui, è lui, è lui, i terapeutisti respiriani, sono tanti per farsi due risate, come se non puoi giù, il problema è che, però, è un problema serio, perché, quando ci credono veramente, cioè, ce l'ho collegato, e la batteria, 86%, scende invece che aumentare, quindi, figurati, 85%, è un disastro, è un disastro, nonostante sia in carica, però effettivamente, questo è un telefono, che ha fatto la battaglia, no, volevo provare, a, dulcis in fundo, a mettere sta roba, su android, anche se, ho reinstallato tutto, quindi, non so se, mi arriva a, e come si vede grande, questo, ok, bella animazione, lo lancio, e provo, proviamo, 64 bit, che forse, vabbè, che il telefono è nuovissimo, quindi, prima che si scarichi del tutto, visto che sta ancora calando, run, run, senza debugging, quindi, se vado qui, aspetto un pochino, non ho fatto, deploy di altre applicazioni, in questo periodo, quindi, spero che non si sia, vabbè, sicuramente, devo andare sul manifest, a fargli, un ritocco, non so se sono l'unico, che deve sempre fare, questa procedura, perché c'è un, nel manifest di default, c'è una parte, che a me non accetta, però, è sempre un po' su, su questo qui, risse, secondo me, perché, questo telefono, forse, non è, tra i più, tra i più recenti, quindi, se basta, l'università, la cellulare, dura di più, sì, vabbè, ma comunque, adesso sta partendo, quindi, ok, merging, Dexfiles, farà un signing, con un certificato, temporaneo, tutte le varie cose, che dovrebbe fare, l'installing, poi ho fatto anche il run, quindi la dovrebbe anche lanciare, non in debug, però, fa il packaging, di moving earth, però la metto in verticale, dovrei metterla in orizzontale, mette, vabbè, massimo lo, lo ruoto, poi in un secondo momento, signing, cioè, la deve firmare, la deve trasferire, la deve installare, la deve lanciare, no, il telefono, ha funzionato, è anche più fluido qua, o sembra perché lo schermo, non ha gli stessi refresh, però, sembra, c'ho la terra nel cellulare, adesso chiudo l'applicazione, scompare, come nella puntata di Futurama, dove c'era l'universo in una scatola, e c'era la situazione dove c'era una scatola, che conteneva l'altro e viceversa, e quindi questa più o meno è, e quindi c'è il telefono, un vero honor da battaglia, posso lanciare Starlink, sì, tanto oggi è bellissimo, vedere risultare per un orazio che scoppia, che vabbè, perché ovviamente, era tutto grasso che cola, visto che, un po' come me, visto che l'obiettivo era farlo partire, però a dire, eh, c'è stato boom, eh, poi, però sono riusciti a lanciarlo, quel razzo, no, carino, chiaramente, questo 3D, un po' a 2D, però giustamente, c'è finito il, però, interessante, via, come, come, effetto, ci può stare, ci può stare, quindi è abbastanza, è interessante, scena 3D interattiva, questo, però vedo che c'è una procedura, un po' lunghetta, con dei coni, con dei, qui iniziano ad esserci un po' di, di, di elementi diversi, delle, ah, su forme geometriche, avevo visto una cosa interessante, lo Starfield Simulator, non c'è fare, tipo, delle stelle, che ti vengono incontro, però, c'è, interactive gesture, for, marro 3D, expand the touch event, alla, questa è la viewport, mi ha spiegato, come, usare la viewport, per, mouse move, per muovere il mouse, a fare delle operazioni, ok, perché la cosa, ovviamente interessante, hai provato il click, oh, c'è ragione, cavolo, c'è ragione, non ho provato, a vedere se zoomava, eh, ho chiuso anche la, no, ce l'ho ancora qua, lo lancio da qua, come sto tenendo, visto che, è lì in alto, moving earth, così riparte, se gli faccio tap, tap, si ingrandisce, aumenta e diminuisce, ho visto le scene risultate, parlate che ci ha fatto male a nessuno, vabbè, lì, fin dove hanno testato, diciamo che loro, si aspettavano che non partisse, quindi è arrivato, fin fuori, poi ha iniziato a girare, lì c'era evidentemente, qualcosa che non andava, poi, credo che l'abbiano fatto esplodere, per sicurezza, però non sono sicuro, non ho più verificato, perché dopo sono andato a sudare in palestra, quindi non, vabbè, quasi quasi tutta sera, adesso mi divertirò, a, a ingrandire, ridurre, la terra sul telefono, ma, come dire, no dai, molto, very, very interesting, molto interesting, moving earth, anche un avvio abbastanza rapido, però, beh, l'applicazione è molto semplice, quindi, ho installato anche l'app preview, che è una cosa che, non avevo, non avevo provato, devo ritestare, devo riprovare il biotest, perché adesso è uscita una patch, per l'accesso biometrico, quasi quasi, già che sono off topic, ma, già che ci sono, me lo provo, allora, dov'è, dove sto andando, barcadea, studio, project, ce l'avevo qui, biotest, perché c'è questo, nuovo, fantasmagorico, componente, biometrica authentication, non so, che hanno rilasciato una patch, perché c'erano un po' di, di problematiche, legate a, adesso non trova neanche più, la unit, forse non si chiama così, no, si chiama così, aspetta, aspetta, non la trova, non la mettere, perché, c'è, ma devo scegliere, android, ok, così mi abilita, la, la parte, quella parte qui, eh, run, run, run senza debugging, così lo aggiorno, anche se secondo me, è un sistema operativo vecchio, nel smartphone, ha una GPU, o anche le configurazioni grafiche, che usano una GPU, penso ci sia una, una, bella domanda, no, di solito c'è un core, penso per tutto, c'è una CPU, credo, anche perché, non è che poi si possa scaldare, come dire, più di tanto, anche perché, hm, non ti bloccare, che sto, che io sappia, c'è solo la CPU, anche perché, diciamo, lì non hai un grosso problema, legato al fatto che, però potrei sbagliarmi, dovrei andare a vedere, verifico perché, ok, testa autenticazione, biometrica, lo sposto un po' dalle scatole, perché mi chiedeva la, ok, ci vuole la, la richiesta, la richiesta, però io l'avevo fatta, penso di averla rimossa, quindi, come mai, non c'è più, ah, perché forse avevo fatto, in 32 bit, quindi, biometric, ci sta, user permission, c'era, bio, 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 da qualche parte c'è, fammi vedere, qui, cosa avevo messo, perché l'avevo rilasciata, 32 bit, tanto poi, non penso che, non penso che sia quello che cambi, biometrica, qua c'è, tutto false, c'è internet, ok, use biometric, ok, si chiama, quindi, e basta, e basta, ok, quindi, faccio direttamente da qua, dov'è, 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 use biometric, save, run, torna, 64 bit, run, senza debugging, gli smartphone, hanno la GPU integrata, ovviamente, meno più avanti quello dei PC, e di solito, effettivamente, non è un dato, a me, a me sembra, che non venga, cioè, si parla sempre di, Snapdragon di, si parla sempre della CPU, è vero che fondamentalmente, quando non gioca, e non fa il resto, quello che conta, poi è il, il Nokia 3310, ma il Nokia 3310, non lo so, se, forse non ce l'avevano, ma, anche quello, hanno lo scudo, hanno il 3310, quindi, no, facevo solo un test, anche secondo me, qui, il problema era nel sistema operativo, perché ho visto altri demo, di altri, che l'hanno fatto, e funzionava, quindi, se a tutti funzionava, già da prima, a me non funziona, il problema, nella gestione del sistema, o in qualcosa, che io eventualmente, ho sbagliato, quindi, mi aspetto, mi aspetto, che dia lo stesso comportamento, ma, ci provo, test, autenticazione, metti, il DTUS, no, mi butta fuori, mi interrompe, l'applicazione, e, se faccio cancel, fa lo stesso, quindi, c'è qualcosa, che manca, in questa sdk, su, questa versione, di android, che, usa il punto digitale, o altro organo, per accedere, questo l'avevo scritto io, non è, tocca il sensore, dell'impronta, cioè, quando ritorna, c'è qualcosa, che lo fa, lo fa crescere, quindi, forse andando in debug, si capisce, di cosa si tratta, però, attualmente, ce l'ho solo io, sto problema, non capisco il perché, ma, effettivamente, mancano, magari, delle, delle cose, boh, o forse, una combinazione, di, di fattori, qualcosa del genere, dovrei metterle tutte, strong, weak, ma, non l'ho poi mai, studiato più di tanto, e quindi, questo potrebbe essere, legato a qualsiasi, problematica, e quindi, quindi, integrato, dicevo appunto, si parla sempre del cpu, snapdragon, di quelle che sono, a bordo, più o meno veloci, però, non c'è mai, un'indicazione, della, di per sé, di quella, integrata, come, per la grafica, però, oh, in quel caso, però, effettivamente, se c'è la libreria, grafica, dovrebbe esserci, sì, comunque, devono gestire, beh, comunque, uno schermo, comunque, con diversi pixel, non è che poi sia banale, solo più denso, però, a volte, magari, sono gli stessi, quindi, bisogna un po' capire, non so, un esperto, quindi, test, ah, ed è proprio, scompare, scompare, tu ridu, potrei scegliere, anche un altro metodo, vabbè, tanto, e lui esce lo stesso, quindi, anche col pin, non c'è niente da fare, che è più debole, in teoria, quindi, però, però, io qui, authenticate fail, authenticate, cioè, questo componente, non è che abbia, chissà, quali altre, re-use time, penso che, se gli metti un tempo, praticamente, lui, ti dice, ti metti un secondo, se tu hai bisogno di, rileggere l'impronta, dopo un secondo, te la, ti mantiene, cioè, non te lo chiede, o qualcosa da leggere, confermere, boh, confirmation required, prom confirmation, confirmation, che roba è, non lo so, a meno che non sia questa, quella che dà fastidio, mi dovrebbe caricare la guida, ma, ok, qui, la documentazione, è ancora in, in divenire, e quindi, vabbè, questo è off topic, ma, giusto perché avevo il telefono, importante avere la nostra moving earth, la nostra terra, che si, no, ok, direi, lascerei delle cose, sempre sul 3D, per la, la prossima volta, così, ci, ci divertiamo, mi piacerebbe molto l'esempio Starfield, mi piace, perché, mi dà l'idea, però, adesso che un po' ho capito, mi sono un po' ripassato in testa, la storia della zeta, probabilmente, se si riesce a generare una sfera, abbastanza piatta in un punto, e modificare sempre solo la zeta, finché non la vedi sparire, teoricamente, ne fai tante, le fai tutte muovere, con animazioni in avanti, e riesci a fare, il salto nell'iperspazio, che ne so, adesso la sto sparando un po' di, le sto sparando un po' così a caso, poi, e non ti bloccare, ok, test biometrico, è sparito, ah no, no, niente, non c'è verso, non c'è verso, dovrò provare con il mio, quando torno indietro, proprio l'app cresce, proprio, Android è così, se gli chiedi, e dici, faccio un'operazione, non puoi, o così, già è molto che ti dà quegli errori, tipo, manca il permesso, perché c'è un check, in certi casi, c'è segmentation fault, oppure se, se provi lo stesso a fare un'operazione, boom, lui chiude, quindi dice, ciao, ti saluta, e ti sbatte, ti fa quel cosiddetto dito medio, e, è finito di, è così, bene, come dire, torno nella mia, opening, visto che, sono, in live già da un pochino, primo smartphone quantistico, cioè, una quantità, dovrebbe, ci vuole più la qualità, che la quantità, ma vabbè, so che quantistico, vuol dire un'altra cosa, però era, una battuta ci stava, e quindi, e quindi, come dire, potremmo iniziare la live, con questo, e adesso chiedetemi pure, senza remissione, io non ho peli sulla lingua, momentaneamente, stava, Loris Batacchi, bro, va, ok, dopo questa cheat, direi che, siamo abbastanza, in fondo, quindi metto il mio, il mio sound, finito, basta, chiuso, vai, senta, mi hanno consigliato, di farne anche qualcuna nudo, magari figura intera, se vuoi, se vuoi, dare una giocatrice a canita, abbiamo già raidata, che stava giocando a Hogwarts, mi sembra, e, mi sembra, solo che, c'è un sacco di follower, c'è scritto, ok, ci hai, sono in 200, eh, raidato, un tale, compila, quindi va con quattro persone, o tre persone, non si può, rideare quelli molto seguiti, perché si fa una figuraccia, eh, adesso guardo, perché mi apri il mio, di canali, sempre, ok, direi che, che, che non, che gioca, non c'è nessuno, stasera c'è Star Wars, ecco, è uscito questo nuovo, Star Wars, se di solito vado sulla mia categoria, e guardo in giro, però vedo che, eh, no, English, stasera non c'è proprio nessuno, eh, ecco, però, siccome detestate, appunto, eh, come si dire, fasmofobia, potrei, potrei portarvi da chi lo sta giocando, che di solito è, forse da sola, tra l'altro, quindi, non lo so, sarà una cosa che ha messo, so che doveva giocare a, a Hogwarts, e quindi, sempre contento dei ride, sì, sì, quindi, c'è sta qualcuno che gioca a scacchi, rischiamo di, di, di distrarlo, quindi, non si sa mai, che poi io guardo sempre quelli che seguo, però non ho mai, guardato, vabbè, le volte, come dire, non si sa mai, però, sì, come dire, non, non conoscendogli gli altri, non sai mai se fai un piacere o qualcosa, quindi, vabbè, tanto poi è un proforma, per cui, adesso, imposterò qui, e poi dopo, faccio un ride, così, anzi, quasi, dopo vado anche a giocare, torno in live, giocando, no, vabbè, scherzi a parte, no, direi, prossima settimana, non so se la prossima, no, c'è di nuovo un webinar, e quindi, se, guardate sul canale YouTube, del sottoscritto, c'è una, nella sezione webinar, c'è un paio di webinar che abbiamo fatto, con rete informatica lavoro, dove, nel caso, affronto Python, C Sharp, MongoDB, quindi, sono cose già un po' diverse, quindi, non solo Delphi, ne ho fatto una anche su Delphi, e l'ultima volta abbiamo parlato, di principi solid, con C Sharp, e quindi, ho visto che c'erano dei commenti positivi, sotto, ma si è stato chiarissimo, e ho detto, beh, grazie per, complimenti, e, presto ce ne sarà un altro, su Unitest, sempre su C Sharp, e quindi, magari, poi li segnalo, li linko, così, se può interessare a qualcuno, sono, sempre gratuiti, e quindi, a disposizione di tutti, no, dove vai, Muzio, bisogna fare il ride, no, scherzi a parte, ok, si è fatto una certa, quindi, direi, ci vi, vediamo se non ci sono, eh, intoppi, la prossima settimana, dove magari, proseguo questo argomento, che è interessante, con delle cose più, più carine, poi, direi, e poi vediamo, diciamo, la prossima, che cosa portare, ma direi che questo, capitolo del 3D, è molto interessante, mi piace esplorarlo, e quindi, se non ci sono cose, speciali, o particolari, direi che, direi che, ci sta, ci sta, devo saltare prima del ride, sì, no, poi scherzo, io dico sempre, di rimanere, ma, giusto per, quindi, quindi, due ore volate, sì, sono volate un po' anche a me, ma, sono abituato, al volo, e quindi, ok, andiamo a vedere, chi gioca a Fasmo, faremo un club, così, c'è, Vision, Dr. Ronnie, che forse si è scollegato, che si, che ci cazza, perché, no, effettivamente ha dei grandi effetti, quel gioco lì, però, che ci possiamo fare, ok, di nuovo, buonanotte, buon weekend, buon ponte, chi lo fa, alla prossima, ciao a tutti, alla prossima, nella prossima live, ci vediamo, ciao, a tutti,